GF VIP 7, Francesco Chiofalo dedica uno ad Antonella Fiordelisi, il motivo esilarante, video. Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ha pubblicato su Instagram un video particolarmente eloquente. Nelle immagini si può vedere l'ex volto di Temptation Island nello studio della sua tatuatrice. Sommando sul polso, si nota come l'obiettivo di Chiofalo non sia tatuarsi qualcosa di nuovo. Bensì modificare il tatuo già presente. Nello specifico, l'ha scritta Antonella. Che fece durante la relazione con l'attuale concorrente del grande fratello VIP 7. La scelta di Francesco è stata tatuare sopra il nome della ex fidanzata una spessa linea nera. A significare, capitolo chiuso. Al video, ha aggiunto una didascalia in cui ha scritto. Una leggenda metropolitana racconta che quando due fidanzati si tatuano i propri nomi a vicenda la cosa porti enorme sfortuna alla coppia a tal punto da farli lasciare per sempre, l'ho potuto constatare su me stesso, la leggendaria metropolitana è vera. Che la rottura tra i due sia stata turbulenta non è un mistero. Francesco e Antonella. Conosciutisi nel 2017 proprio nel programma condotto da Filippo Bisciglia, hanno trascorso tre anni insieme. Fino alla rottura, avvenuta nel 2020 per volere di lei. Ultimamente Chiofalo, attualmente impegnato con Drusilla Gucci, è intervenuto circa le affermazioni di Antonella sul suo conto. Rivelando la sua versione dei fatti e come Stefano Fiordelisi, il padre della Vippona, abbia influenzato la figlia nella scelta di lasciarlo. Locate date Instagram caption ed uguale date Instagram permalink uguale HTTPS, due punti, slash slash, www Instagram. Comerlcmwlqpilunganovemeutmsource uguale idmvedutmcampaign uguale loading date Instagram version uguale 14.